Per i testimoni di Geova è l'appuntamento più importante dell'anno, quello che ricorda il grandissimo valore del sacrificio compiuto da Cristo per salvare l'umanità. Un momento di enorme spiritualità che le comunità di fedeli rivivono in occasione della commemorazione della morte di Gesù, corrispondente al quattordicesimo giorno del mese lunare di Nisan del calendario ebraico. Un evento che quest'anno è stato celebrato martedì 4 aprile con la partecipazione dei testimoni di Geova di tutto il mondo. È stato così anche per i circa 360 componenti della comunità andriese che si sono riuniti ieri sera presso l'hotel Ottagono per un grande momento di fede e di riflessione. A differenza della Pasqua che ricorda la risurrezione di Gesù Cristo, questo evento chiama alla memoria il sacrificio della morte di Gesù Cristo. È una cerimonia che inizia e conclude con un cantico seguito da una preghiera pronunciata da un ministro dei testimoni di Geova. La parte più importante di questo evento è un discorso che spiega il significato della morte di Gesù Cristo ma soprattutto i benefici che noi come esseri umani traiamo da questo gesto stupendo di Dio e di Gesù nei nostri riguardi. Un momento di grande partecipazione collettiva particolarmente sentito dalla comunità dei testimoni di Geova. Basti pensare che lo scorso anno a questo evento hanno preso parte circa 20 milioni di persone in tutto il mondo e quasi 430 mila solo in Italia. L'evento più importante dell'anno è l'unico evento che Gesù quando era sulla terra e che ha riportato anche nella Bibbia ha detto di commemorare. Infatti in Luca 22,19 c'è scritto continuate a fare questo in ricordo di me e noi ci sforziamo ogni anno di celebrare e di seguire il suo esempio.